Ok, siamo iniziati. Un bel po' di mesi, anzi di anni, perché abbiamo iniziato lo scorso anno con questo bel format in esclusiva per Teleprima, parleremo, analizzeremo tutto ciò che è successo in città in questi ultimi sette giorni, ovviamente anche in ottica futura, raccogliendo anche un po' di domande che ci hanno posto i cittadini e dando uno sguardo anche sui social, veramente ne abbiamo viste di belle, ne parleremo tra un po'. Iniziamo subito con una notizia importante già in ottica futura, perché parliamo di lunedì, quindi tra due giorni, dove si firmerà un protocollo di intesa tra il Comune, la Camera di Commercio e spero di pronunciarla bene, la città di Ichikawa. Ed un'altra bella sinergia della città di Caserta. Intanto è un protocollo di intesa importante, lo sottoscriviamo in sala giunta al Comune di Caserta, saranno nostri ospiti il sindaco di Ichikawa, che è una città di 500 mila abitanti che confina con Tokyo, quindi una città importantissima, molto più grande di Caserta e che ci dà la proiezione e la possibilità di creare una filiera turistica tra il Giappone e Caserta. Arriverà un gruppo di lavoro di funzionari nell'ambito della filiera dei beni culturali e del turismo giapponesi e con loro faremo un percorso. Saranno qui con noi quattro giorni, iniziamo con il protocollo di intesa, conosceranno le nostre bellezze, ci sarà un lavoro importante che faremo in sinergia di incoming, perché si vuole costruire quello che abbiamo detto sempre, la città del futuro, la città delle occasioni turistiche e sicuramente la rete internazionale di rapporti. Ci siamo aperti ai cinesi, ci siamo aperti ai giapponesi, abbiamo aperto un ragionamento importante con tutte le ambasciate e i consolati che sono a Napoli. Bisogna fare sinergia, bisogna portare forze turistiche sulla città, non basta sicuramente soltanto il sistema scuola italiano che viene a visitare la Regia, ma bisogna portare economia anche alla città. Quindi l'occasione che la sinergia si fa innanzitutto con le città e le città si mettono insieme per portare occasioni turistiche. Ecco, quanto è importante proprio fare rete, fare sinergia, sia a livello internazionale, l'abbiamo visto anche a livello nazionale, con varie realtà italiane, sempre con la città di Caserta, proprio come scambio interculturale, perché ho letto che poi si parlerà anche di rifiuti, non solo di bellezze, quindi di tantissimi temi, proprio per dare una spinta poi a ciò che accadrà e quindi per parlare di presente e di futuro. Assolutamente, con loro ragioneremo di tre temi fondamentali, intanto il sistema dei beni culturali, il sistema turistico, la filiera agroalimentare e la filiera della raccolta del sistema del ciclo integrato dei rifiuti. Dobbiamo lavorare insieme perché sostanzialmente farci anche, trasferirci anche le best practice e le buone pratiche amministrative, proprio per costituire poi dei modelli sociali ed economici più importanti. Sono loro interessati a capire come funziona da noi, siamo noi interessati sicuramente nel tema più importante per noi che è quello turistico. Ecco, turismo, che l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, è un periodo che è andato molto bene, la città veramente ha vissuto un periodo importante, spinta poi anche dalla Pasqua, dal primo maggio, dai tanti eventi che comunque stiamo vedendo anche in questo periodo e che ancora vedremo, poi ne parleremo ancora più avanti. Sindaco, c'è tanto ancora da fare, ma è stato fatto tanto in questi mesi, in questo ultimo anno. E poi sostanzialmente adesso io sono sempre proiettato a guardare al futuro e non a ricordare quello che abbiamo fatto, ma quello che vogliamo fare o che vedranno i casertani. Noi avremo due mesi importanti in città sotto l'aspetto di eventi e di turismo e di iniziative che iniziano ormai da fine maggio. Avremo il Bufala Village a Villa Maria Carolina, avremo Estate da Re, avremo il Belvedere da Re, avremo le Universiedi, ricordo a tutti, intanto il primo giugno, il 26 giugno che ormai si sta arrivando, il primo giorno, c'è il percorso e inizia con il primo giorno delle Universiedi in cui attraverserà la città di Caserta la Fiaccola che arriverà poi a Napoli e ci sarà una giornata importante in città, Villa Maria Carolina, la Fiaccola attraverserà con tutti il percorso delle Universiedi e l'intera città di Caserta. Quindi è il primo evento, poi avremo Casa Campania a Piazza Grammici tutti i 15 giorni, avremo eventi a Piazza Grammici, avremo eventi su Salleus, avremo eventi in città. Fra poco lanceremo i 50 giorni alle Universiedi con una serie di iniziative tutti i giorni, sia su quelle convegnistiche con l'università, sia quella con i militari, sia quella con il CONI, sia quella con le federazioni, ma sia anche come eventi turistici e culturali. Ci spoilerava, scusi se le interrompo, nelle scorse puntate anche qualche evento in periferia per quanto riguarda le universiadi. Cerco sempre di tirarle qualche spoiler. Sì, abbiamo fatto proprio una riunione proprio in questa settimana, martedì, dove ci sarà una grandissima iniziativa al quartiere degli Aranci perché non vogliamo dimenticare che sì i grandi eventi che si fanno intorno alla Reggio, intorno al Belvedere o alla Caserta Medievale, ma ci sono anche quartieri importanti dove vogliamo lasciare una traccia indelebile anche di questi eventi. Ma questo lo racconteremo i prossimi giorni, ma soprattutto lo faremo vedere ai casertani attraverso una serie di iniziative, coinvolgendo associazioni, coinvolgendo le parrocchie, che sono realmente il furco importante della nostra città. Noi siamo una comunità che si muove intorno fortemente alla parte sociale delle parrocchie. E con l'associazionismo ci saranno belle cose. Le racconteremo i prossimi giorni, ma soprattutto le vedremo insieme i prossimi giorni. Assolutamente. Poi è anche bello che manifestazioni importanti che magari hanno la base a Napoli e in Campania scelgano Caserta ed anche le sue strutture per manifestazioni appunto importanti, come Fiore all'Occhiello, non solo le universiadi che ospiteranno veramente cose importantissime a Caserta, ma vediamo sempre nei prossimi mesi anche il Grand Prix di nuoto che solitamente si svolge a Napoli e che invece farà tappa proprio a Caserta allo Stadio del Nuoto con eccellenze dello sport e del nuoto importantissime come Federica Pellegrini. Come no. Quindi comunque ho un grande orgoglio. Abbiamo il Grand Prix, abbiamo lunedì, inizia il torneo internazionale del tennis di Caserta, stanno continuando i lavori degli impianti sugli impianti di Caserta per quanto riguarda gli universiadi e i prossimi mesi stanno per partire le gare, partono la riqualificazione completa e finalmente dopo 20 anni completiamo il palazzetto della ginnastica artistica, ci riusciamo noi e facciamo il nuovo palazzetto della Pallavolo in città che avrà un suo palazzetto completamente dedicato in modo tale che Pallavignola ritorna al basket e poi per non dimenticare sempre il tema dei quartieri e quelli che vengono detti nel linguaggio comune periferie che per me invece devono diventare il cuore, il centro delle iniziative e in corso la riqualificazione all'interno del rione Manvitelli realizziamo un grande centro per il calcio, per il quartiere, tutto in erba sintetica e ci saranno una serie di eventi che le prossime settimane gli amici del rione Vanvitelli e del rione Tescione perché quello è il cuore di una serie di rioni che si uniscono fra di loro vedranno ecco ci ha spoilerato qualcosa il sindaco quindi resteremo ben attenti nelle prossime settimane altra notizia importante di questa settimana è che Caserta è rientrata nei 510 comuni vincitori di un voucher per installare il wifi quindi un hotspot entro 18 mesi nelle aree pubbliche cosa molto importante e molti potrebbero dire beh a cosa serve invece è una cosa molto importante perché serve comunque a fare comunità e quindi anche a sfruttare le aree verdi e le aree pubbliche in particolar modo magari per i più giovani quindi può essere una spinta in più stavo dicendo esatto io vedo che le mie figlie diciamo in qualunque locale arriviamo ci date subito la password del wifi immaginare che invece ci sarà e adesso lo dico dove uno spazio in città dove i nostri giovani che sono quelli che più utilizzano ma poi non nascondiamoci la verità anche noi più adulti avremo il wifi gratis senza cercare di prendere la password ma la novità è che la facciamo nell'intera zona ZATL della città quindi nella zona traffico limitato il wifi sarà gratuito questo significa che diamo la possibilità a passeggiare di più sul Corso Trieste sul nostro centro storico dare sempre di più spazio alle famiglie per tenere libero e far diventare occasioni attraverso le nostre comunità come bene diceva lei un'occasione anche di fare un po' di pillo economico le nostre attività commerciali le nostre attività anche mi permetterete sociali quindi fa socialità, fa comunità il wifi, fa incontro di ragazzi so che i ragazzi vanno in cerca di password sempre di wifi gratuito ci sarà senza bisogno di password in tutta la zona traffico limitato i prossimi mesi il wifi per tutti anche perché sindaco ormai tutto è marketing quindi anche un giovane che magari passeggia nei pressi del centro cittadino della reggia che magari scatta una foto e la posta sui social può essere veicolo comunque di conoscenze di una pubblicità positiva a ciò che sta fotografando vedendo e vivendo quindi tutto poi gira nel verso positivo io sono convinto che ha ragione chi dice che la zona traffico limitato serve nella misura in cui poi gli diamo dei servizi ecco perché il tema è dare il wifi gratuito trasmettere l'open tour con il bus turistico aperto per i turisti nel centro della città fra poco vedrete la segnaletica turistica sia quella pedonale sia quel centro non solo per raggiungere i nostri siti culturali ma anche quello del centro storico adesso vedrete che rifacciamo su molte parti tutta una risistemazione sia della pubblica illuminazione e sia degli asfalti quindi ridiamo immagine alla città anche in prossimità dei prossimi eventi che stanno per arrivare un'altra cosa che ho notato in questa settimana perché noi lo diciamo sempre che siamo i primi osservatori della nostra città ovviamente vivendola e soprattutto ci basiamo sui fatti non su ciò che scrive la carta o ciò che riportano i siti internet e quant'altro ho notato che ci sono tantissime nuove aperture di esercizi commerciali sul famoso Corso Trieste quindi anche quella è una bella spinta verso il rinnovamento io sono convinto che nel giro di due anni noi avremo il Corso Trieste diventa il fulcro centrale dell'intera città di nuovo quella che era la sua storia l'abbiamo fatto sul primo tratto sono nate è chiaro che va cambiato il target serve il food serve servizi ai turisti e quindi attività commerciali che accompagnano la passeggiata dei turisti con tutto un materiale anche di merchandising della reggia del Belvedere devono nascere attività di monomarca che danno spinta più forte al nostro centro commerciale naturale ne sono convinto, ne sono certo già due pezzi importanti di Corso Trieste perché poi tutti pensano che il Corso Trieste parte dal 4 novembre e arriva dal monumento 4 novembre e arriva alla reggia quindi è lunghissimo e già il 70% ormai del corso è ravvivato dobbiamo ravvivare l'ultimo 30% gli metteremo il wifi gratuito che è un altro elemento metteremo la navetta turistica che crea la possibilità naturalmente ci deve essere anche la sfida degli imprenditori che devono credere in un luogo che può diventare un punto importante turistico dobbiamo dare però un'occasione che il turista che passeggia trova una bella vetrina e trova attività interessante quindi è la sfida anche imprenditoriale il pubblico può sollecitare un ragionamento ma poi è l'imprenditore che deve accettare la sfida ecco una doppia sfida stimolante veramente per tutti chi ha avuto modo di passeggiare intorno la reggia in queste giornate nella giornata di venerdì ed anche nella giornata di domani domenica avrà notato che sarà tinta di vari colori che si è illuminata appunto sia di viola che di blu per due giornate importanti di sensibilizzazione una per la neurofibromatose invece domenica di viola per le malattie croniche dell'intestino altro segnale che c'è una grande sensibilità per queste giornate e per questi eventi devo dire la verità insieme alla sovrintendenza abbiamo fatto in questi anni una scelta importante il gioco dei colori sulla reggia non semplicemente per creare un fascino ma legato ad iniziative sociali legate ad iniziative della tutela della salute dei cittadini sulle grandi campagne di prevenzione sulle grandi campagne di comunicazione per curare i più deboli e i più disagiati la cultura è anche elemento di costruzione di un modello sociale il modello sociale si costruisce anche attraverso e soprattutto aiutando i più deboli quindi le campagne di sensibilizzazione e utilizzare la grande bellezza della reggia per ricordare a tutti che si deve stare sempre più vicino ai deboli assolutamente altra notizia della settimana è che al via lo sportello sposa che sarebbe sicurezza e sviluppo agroalimentare un'altra convenzione insomma con la città di Caserta cosa alla quale aderiscono anche numerosi altri comuni sì intanto sposa non è non abbiamo fatto lo sportello per sposarsi esatto ma perché diciamo molti mi hanno chiesto mi hanno chiesto questo invece nella parte a Piazza Vambitelli nella parte dove abbiamo l'ufficio relazioni col pubblico dove abbiamo anche uno sportello servizi di pubblici servizi per chi deve chiedere notizie sul tema della Tari di tutte quelle che sono le tasse comunali abbiamo creato anche un altro punto che è un punto di risposte sul tema dell'alimentazione per dimostrare sempre di più che siamo terra felix per chi ha dubbi sul tema sia dell'agroalimentare sia sul tema delle alimentazioni quotidiane c'è già ormai funzionante l'abbiamo inaugurato uno sportello con una convenzione con un protocollo di intesa che abbiamo fatto con gli esperti in materia per dare risposte a chi non ha possibilità intanto per dare sicurezza che è il tema fondamentale nel tema dell'agroalimentare dare certezza di quello che mangiamo dare certezza che noi siamo terra di qualità e anche di quantità e di bellezze e non terra di fuochi o di difficoltà agroalimentare per quello diamo comunicazione in tutte le forme e in tutti i modi abbiamo proprio un infopoint turistico a fianco risposte agroalimentari e poi abbiamo le nostre relazioni col pubblico cioè mettiamo insieme al turista che viene per avere informazioni turistiche anche il tema di dargli tranquillità sul tema dell'agroalimentare per sposarsi invece abbiamo tante belle chiese quindi si possono rivolgere lì penso che noi un consultorio familiare le chiese vanno bene vanno benissimo sindaco ormai possiamo fare un piccolo jingle settimanale perché ogni settimana guardando un po' anche sui social c'è una polemica al 90% riguardano sempre l'asfalto e le buche questa volta però persino è partito poiché facciamo un passetto indietro abbiamo visto che in prossimità dei passaggi a livello sono sbucati possiamo dire così gli indicatori molti però cittadini possiamo anche dire che questi indicatori sono stati anche particolarmente necessari visto che ci sono state anche delle problematiche legate ai passaggi a livello casertani magari poi ne parliamo molti cittadini però si sono lamentati perché purtroppo la lamentela all'ordine di giorno perché è tessuale ho letto anche sotto i suoi profili social come a Caserta ci sono tante cose urgenti da fare come le buche e l'asfalto che ormai ritorno in ogni puntata e si è pensato invece ad installare questi indicatori quindi a lei la risposta a tutto ciò allora capiamoci sempre bene perché il comune io lo ridico in tutte le salse noi siamo come la famiglia cioè abbiamo 100 su 100 paghiamo il mutuo facciamo mangiare i figli e quindi i figli sono i nostri dipendenti che dobbiamo pagare dobbiamo pagare i nostri mutui poi dobbiamo pensare ai più deboli poi abbiamo le scuole quindi abbiamo tutto e rispetto a quello quello possiamo spendere cioè non è che siamo una famiglia come tutte le famiglie arriviamo a fine mese e poi dopo ai figli che vogliono mangiare una pizza in più dobbiamo dire mi dispiace guarda questo mese dobbiamo stare più attenti questa è la sfida anche in famiglia che è la famiglia comunità certamente nelle prossime settimane abbiamo avuto un periodo particolare sulle buche perché una pioggia che arrivava fino a fine maggio non è mai capitato e quindi sono riaperte le buche ma si è fatta la gara la prossima settimana verranno chiuse tutte le buche della città in attesa che poi nel mese di agosto e settembre faremo tutti gli asfalti completamente tutte le strade e in più parte anche i lavori sulle fogne quindi avremo 14 milioni di interventi sulle fogne della città e di fatto rifacciamo i sottoservizi e rifacciamo anche gli asfalti ma al di là di questo ritornando al tema della cartellonistica vicino ai passaggi a livelli noi diciamo il tema sicurezza è un tema fondamentale per i nostri figli i nostri ragazzi le nostre mogli le nostre famiglie per tutti quanti noi per fare questo ci siamo accorti che molte volte avevamo avuto segnalazioni che da rete ferroviaria italiana c'erano dei casi in cui la barriera restava aperta e passavano i treni avevamo visto scene anche sui social su tutti quanti nonostante l'amministrazione comunale non avesse responsabilità non me la sono sentita di non intervenire con un tema sicurezza perché immaginare che un ragazzo una ragazza una signora o chiunque potesse essere colpito da un treno in corsa perché la barriera restava aperta e non c'era la segnalazione dovuta diciamo quella è una cosa fondamentale il tema sicurezza poi un giorno avrei avuto scrupolo che non potevo potevo forse con un cartello salvare una vita quindi la sicurezza al centro di tutto le emergenze ci sono e vanno affrontate ma sempre prima il tema sicurezza ma anche perché sindaco molto spesso si dice a volte sui social si fanno passare per ordinare cose ordinarie però se le cose ordinarie non lo erano da numerosi anni abbiamo fatto tanti esempi in passato ma anche di cose banali come la cura del verde la potatura degli alberi che era decenni che non si teneva anche le cose ordinarie poi hanno una certa importanza una certa priorità quando noi un po' di tempo fa abbiamo iniziato la nostra la nostra il nostro periodo amministrativo quando ho iniziato a fare il sindaco ho sempre detto anche in campagna naturale dobbiamo far diventare Caserta una città normale perché avevamo come bene ha detto lei non avevamo manutentato il verde non avevamo una città che da decenni non si potavano gli alberi poi parte la discussione se sono giusto o no i periodi in cui in cui vengono potate anche su questo ricevo un sacco di segnalazioni vorrei tranquillizzarvi le piante che per norma non possono ma anche per rispetto al nostro verde non possono essere potate entro il 30 marzo non stiamo potando quelle che si possono potare perché sono sempre verdi che possono essere potate tutto l'anno stiamo continuando quindi sereni tranquilli e anche le tecniche che vengono utilizzate sono controllate da un agronomo e sono controllate in tutte le forme e modi previsti dalle esperienze ognuno faccia il proprio lavoro capisco che uno si fa prendere dal vedere tagliare sulla testa un albero ma va fatto perché c'è una tecnica che specifica dice questo così come altre alberature semmai non si può fare facciamo fare il lavoro chi lo fa lo stanno facendo bene e potiamo tutto manteniamo le verdi io ricordo bene che le nostre fontane erano tutte chiuse io ricordo bene che la segnaletica abusiva che c'era in città io ricordo bene l'illuminazione che era carente in tutte le zone e che si spegneva continuamente allora stiamo facendo da una parte gli investimenti da un'altra parte stiamo riportando alla normalità e non ci dimentichiamo che noi abbiamo trovato un debito di 140 milioni di debiti quindi da buon padre di famiglia devo anche pagare i debiti che altri hanno lasciato quindi devo pagare i vecchi i vecchi debiti non devo fare ulteriori debiti devo sistemare la città non devo abbandonare i più deboli devo sistemare le scuole cioè noi quello è il patrimonio economico che abbiamo rispetto a quello è chiaro che può capitare momenti che non ci sono soldi e c'è un rallentamento ma non è che un rallentamento sulla qualità amministrativa o che non si vuole dare risposte ma rallentiamo perché non c'è moneta come può capitare in tutte le famiglie diciamo a tutti i ragazzi ai nostri figli stasera non si mangia la pizza perché dobbiamo fare altre cose importanti e funziona anche così al comune di Caserto non è che stiamo a pettinare le bambole come diceva un leader politico ecco più chiaro di così Simore ma quanto è difficile fare il sindaco? intanto è al di là del difficile intanto è un orgoglio è vero essere poter rappresentare la propria comunità diceva Levi io amo la mia città in tutte le pietre in tutti i suoi spessori in tutti i suoi passaggi e questo è lo spirito che prevale su di me amo la mia città in tutti i modi e quindi intanto l'orgoglio di rappresentarla intanto immaginare in ogni luogo in ogni posto parlare della tua città raccontare le sue bellezze raccontare la sua storia le sue passioni le sue emozioni il suo essere comunità le sue parrocchie il suo associazionismo il suo volontariato tutte le attività che ogni giorno devo fare intanto per me è estremamente sì sacrificato sia tolgo tempo alla mia professione sia tolgo tempo alla mia famiglia alle mie figlie alla mia moglie tolgo tempo alle amicizie ai miei hobby ai miei piaceri però secondo me prevale sostanzialmente l'emozione di poter raccontare quello che ami è quello che è amato dalla nascita è quello che da 500 anni diciamo le famiglie o la storia della mia famiglia porta in città e questo è per non dimenticare questo è per ricordare che attraverso l'eredità culturale noi costruiamo il futuro e allora l'amore e l'orgoglio fanno superare tutti i grandi sacrifici diciamo al sindaco è il punto in cui ti chiedono di tutto diciamo mi è capitato tutto nella nella vita ma quello che mi è capitato nell'esperienza di sindaco in cui mi hanno raccontato e mi hanno chiesto cose che non è previsto cioè che non può fare un sindaco ma che giustamente la gente vede come punto di riferimento come unico punto in cui ti puoi aggrappare per dare risposte allora rispetto a questo devo essere orgoglioso emozionato ma anche responsabilizzato rispetto al farsi e si percepisce tutta la sua emozione molto bello un altro momento bello della prossima settimana del 23 maggio sarà la giornata della legalità in memoria delle vittime del dovere in occasione del 26esimo anniversario della strage di Capaci ci saranno alcuni incontri importanti anche a Caserta varie iniziative anche con la scuola allievi agenti della polizia di stato con tanti ragazzi delle scuole è un altro momento quindi molto bello e importante lo dicevamo prima i nostri giovani sono la nostra forza sono la nostra energia loro dovranno essere originali dovranno essere creativi dovranno essere dovranno essere anche un po' folli dovranno essere un po' irruenti devono costruire attraverso i loro sogni il futuro di questa città però noi gli dobbiamo dare saggezza per dargli saggezza gli dobbiamo dare anche eredità culturale anche storia e ricordare chi ha dato la vita per costruire la comunità per difendere la società per difendere i più deboli vanno sempre ricordati cioè noi dobbiamo combattere le criminalità le illegalità assolutamente contro le mafie contro le camorre qualunque elemento che ricordi che le vittime del dovere non era semplicemente il dovere del loro lavoro ma il dovere di costruire una comunità va fatto ricordare va fatto ricordare i giovani lo dobbiamo ricordare noi tutti i giorni nella nostra attività questo ci aiuta poi a costruire un senso civico più forte essere più innamorati della propria città e della sfida che dobbiamo fare con le future generazioni anche il ritorno all'educazione civica è un ritorno a essere innamorati e a superare gli atti vandalici superare quello che deve essere invece la costruzione di una società eccelsa ecco perché tutti nel nostro piccolo possiamo essere portatori di dovere e di legalità quindi è un bellissimo messaggio condivido dai piccoli gesti dal rispetto della differenziata o dal rispetto delle regole del codice della strada passano anche quegli elementi perché poi a volte vedi persone che fanno delle importanti battaglie sui grandi temi e poi dimenticano che loro nei piccoli comportamenti non rispettano il prossimo quindi va messo insieme dai piccoli gesti dal piccolo segnale che diamo nel nostro piccolo quartiere costruiamo poi dalla famiglia costruiamo poi il futuro dell'intera comunità casertana è verissimo sindaco mi sembra di averla vista mercoledì a Viterbo e scommetto anche che la rivedrò domani a Palavignola mi sbaglio? beh intanto tutti quanti questo è un invito forte che faccio domani domenica alle ore 17 tutti a Palavignola in zona San Gobben inizia la sfida finale la vola alto Caserta contro la squadra di Orvieto chi vince è un'unica partita secca chi vince va in A1 con la palla a volo con queste ragazze straordinarie con la loro capacità di trasferirci diciamo passione ed emozioni abbiamo costruito l'ultima partita la prima partita della sfida il palazzetto era strapieno c'era la città che aveva voglia di divertire e di rivedere il grande sport di serie nazionale abbiamo una grassa importanza andare in A1 in pallavolo è un mondo internazionale andare riuscire ad entrare addirittura poi dopo in percorsi europei guardate è inimmaginabile dovremo realizzare un nuovo palazzetto perché diciamo bisognerà di acquisire rispetto di nuove normative per poter avere l'A1 ma è la sfida che vogliamo fare come amministrazione ringrazio il presidente turco la vola alto queste ragazze al di là del risultato ci hanno dato grande cose però noi adesso dobbiamo stare domenica tutti lì tutti a tifare tutti a stare vicino a queste ragazze che hanno accettato una grande sfida quella di trasferirsi a Caserta erano arrivate in un momento in cui nessuno forse le conosceva nessuno le immaginava che potesse arrivare a questo risultato nove mesi fa erano dei zombie che giravano in città e nessuno sapesse chi era oggi tutte le riconoscono tutte le abbracciano è bellissimo vedere questi ragazzini queste ragazzine soprattutto in città anche delle scuole che girano con la tuta della vola alto abbiamo creato un altro mondo insieme alla palla a canesso c'è la palla a volo femminile ricordo a me stesso la scherma è andata in A1 quindi anche la grande la grande sperma i sport minori le federazioni il CONI tutti insieme per costruire attraverso lo sport ancora qui la Caserta che crede e che è positiva ecco mi unisco anche io all'appello per i casertani in gara 1 c'erano forse una ventina di posti ancora liberi domani veramente vogliamo il pienone il Palavignola gremito per sostenere le nostre ragazze quindi vi aspettiamo al Palavignola alle 17 noi siamo in chiusura grazie mille al sindaco Carlo Marino grazie grazie sempre ai casertani grazie a Teleprima e a Canale 91 e soprattutto buon weekend e buon avvederci la prossima settimana perché nel raccontare Caserta raccontiamo anche pezzi importanti della nostra città la riaspettiamo sempre qui appuntamento quindi a sabato prossimo alle 21.30 su Teleprima ed anche sui social e in streaming quindi mi raccomando ci potete vedere praticamente ovunque sempre con Obiettivo Caserta buona serata e alla prossima buonasera a tutti grazie a tutti